PAPÀ? Signora Straczynski Vieni Entra Sara Il 16 e il 17 luglio del 42 arrestarono 13.000 ebrei Li rinchiusero nel velodromo, in condizioni disumane Senza letti, né bagni, senza acqua E non c'è una immagine È strano I nazisti documentavano tutto, erano famosi per questo Mike Non sono stati i tedeschi, ma i francesi Collaborate! I piccoli Straczynski non compaiono in nessuna lista di deportati Né in Polonia, né ad Ransi Sara Sono scappati di sicuro Giulia, sei ossessionata Tu non lo saresti? Potrebbero essere ancora vivi La riconosce? Jacques Sara Sara Straczynski Come sapete cosa avreste fatto se foste stati lì? Siamo il frutto della nostra storia Mia madre Non sapevo niente di lei Credo che debba sapere la verità Perché lo fai? Perché è giusto A presto è verità Che è legato A presto è verità Che è uno A presto è verità Io non sono